Il tempo stringe, i partiti provano a chiudere il cerchio. A Brindisi, in vista delle prossime amministrative, c'è ancora tanta, troppa incertezza. Il Partito Democratico ha finalmente rotto l'indugia, annunciando di voler correre con il Movimento 5 Stelle. In una nota ufficiale si parla di proposta forte e rinnovata che necessariamente deve tenere unito e coeso tutto il fronte progressista con i movimenti civici, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. A nostro avviso, scrivono dal PD senza mezzi termini, a questa impostazione politica non c'è alternativa. Un messaggio chiaro e preciso. Il candidato più accreditato a questo punto sarebbe Roberto Fusco, ma resta viva anche l'ipotesi Salvatore Giuliano. Un accordo che, dunque, porterebbe il sindaco uscente Riccardo Rossi a candidarsi da solo, col suo Movimento Brindisi Bene Comune e altri partiti di sinistra. Già pronta anche una coalizione di centro e qui ci sarebbe ancora il terzo candidato. Ecco il primo manifesto. Capofila il Partito Repubblicano con il segretario Vito Birgitta che annuncia abbiamo condiviso con azione Brindisi a Colori, Casa dei Liberali e Senso Civico alcune linee programmatiche che intendiamo offrire al contributo di altre forze e movimenti civici che intendano operare per restituire alla città una propria identità. In casa centrodestra, infine, i partiti hanno fatto quadrato ormai da tempo per restare uniti, forti dell'esperienza alle politiche e alle ultime regionali. I nomi forti come candidato sindaco restano quelli di Carmela Lomartire e Pietro Guadalupi.